Novità in vista sul fronte ITR, il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Tessile di Pettoranello è stato convocato in tribunale per il prossimo 21 febbraio. La richiesta d'incontro è dovuta alla sostituzione del giudice che segue la vicenda della richiesta di concordato presentata dai vertici aziendali. Il 17 febbraio infatti ci sarà il passaggio del testimone tra il magistrato Valeria Battista che passerà da altri incarichi e il suo successore. Il Consiglio d'Amministrazione dell'ITR è stato invitato a illustrare al nuovo giudice i dettagli del piano aziendale nell'ambito dell'istanza di ammissione al concordato preventivo. Si avvicinano infatti i tempi della pronuncia del tribunale in merito a tale richiesta. Nel frattempo, giovedì 13 febbraio, è prevista la riunione di aggiornamento in prefettura. Scopo dell'incontro? Quello di cercare di trovare soluzioni idonee a superare le problematiche legate al differimento temporale dell'erogazione della Cassa Integrazione Straordinaria che dovrebbe partire dal 24 febbraio. La riunione rimane in programma solo se fino a quella data non ci sarà stata già la pronuncia del tribunale sul concordato. Procedono inoltre le trattative tra ITR e IKF, il fondo di investimento di Milano, che aveva avanzato una manifestazione di interesse per l'affitto del ramo produttivo d'azienda relativamente alla New Company. Infatti una delegazione della Investment Company italiana ha fatto visita in azienda, presso la sede di Pettoranello, un incontro che rimarca la concretezza della trattativa tra le due parti.